E' accesa? Sempre con questa cosa in mano tu, eh? E dai! E' soltanto per avere un ricordo della scampagnata. No, 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 non è che non mi piace essere ripresa. Claudia, che libro stai leggendo? E' un libro che ho trovato a casa, però non mi piace per me. Gabriele, saluta! Di che parla? Di due ragazze. Certo, è tua sorella, è proprio di grande compagnia, eh? Eh, e dai, smettila, lo sai che è fatta così. E le piace essere per i fatti suoi. Sì, i fatti suoi. Non potete capire, è una palla al piede. I miei genitori mi costringono a portarmela appresso perché, come dice mia madre, Maria Teresa, Marta ha bisogno di farsi degli amici? Marta ha bisogno di uscire? Marta ha bisogno di uscire? Bell'affare! Vediamo se reagisce. Marta! Marta! Ma dove sta andando? Marta! 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 Dove stai andando? Marta! Oh! Marta, dove stai andando? Eh dai! Stavamo scherzando, lo sai che devo badare io a te? Marta! Marta! Eh dai, vieni qui! Dai, Marta! Eh dai! Marta! Marta! Ma sei qui? Marta! Ma sei qui? Marta? E' un po' che cavolo che veniva l'impazzo! Che figata, guardate che porta questa roba! Sì, fortissimo! E tutte queste croci? Mi sa tanto di roba occulta! Sì, ma Marta dov'è finita? Non lo so, e questo posto non mi piace proprio per niente. Ma dai, che divertente! Io di male dico! Ma sei scemo! Ragazzi, mettiamoli feli stupidi! Troviamo Marta e andiamo via! Ma... Che ti sta ascendo? Guarda! Ma... Ti va male? No, non è niente! Io ti mangi un po' via! Aspetta me! Fortale!!! Perhome! No! No 하는 town! No! Non! No non! Marta! Ma dove stai andando? Marta! 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 Dove stai andando? Marta! Oh! Marta, dove stai andando? Signora, ti dispiace, non ho troppo ancora niente. Come l'ho già detto, abbiamo sfigurato tutte le nostre risorse. Ma ancora nulla, non c'è ancora la traccia dei due ragazzi. Ma come è possibile? Avete controllato tutta la zona, avete chiesto a tutti i ragazzi. Ma certo che abbiamo controllato e stiamo ancora controllando. Quando riguarda i ragazzi, non vi creda. Il vento, le porte, le sono tutte dicerie di quel casolare mezzo stregato. Ma non lo sapevano, non le conoscevano come le voci. Signora, mi ascolti, ora c'è di riposare. Le ricerche continueranno per tutta la notte e domani fatte vedere che sua figlia dovrà a casa. Ma dove stai andando? Marta! 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 Dove stai andando? Marta! Oh! Marta, dove stai andando? Marta! E dai! Mi avevo scherzato! Ma sai che devo guardare a te? Vieni a prendermi! Marta! 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 No, no, no. No, 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 no. Marta, scusa. Marta scusami Ti prego Ti prego Ti chiedo perdovio Non volevo Non volevo Farò di tutto per te Mi non giuro Ti prego Date qui mia sorella Farò di tutto Mi avendo il tiro Ti voglio che spero E la mia sorella Farò di tutto Eccola l'abbiamo trovata Eccola lì Marta come stai? Cosa è successo? Marta Marta dove è tu? Sorella Marta 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 Dov'è tua sorella? Marta Marta Dove è una piaca Marta Marta Ah Softorn Marta Mi Tall Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.